Amici 18 A lunedì 17 dicembre su Real Time, Marcello, Paolo e Lorella hanno raccontato i malumori dei ragazzi prima dello speciale del sabato In particolare, Tish sembrava un po' nervosa. Interrogata prima da Mameli, e poi da Alberto sui motivi del suo malessere, la cantante ha confessato che cosa la turbava Tish era infastidita dal comportamento di Alberto. Loro due sono stati obbligati a fare due duetti nelle ultime puntate dello speciale del sabato, e, se nella prima canzone avevano delle difficoltà, poi tra i due, è nato un certo feeling La ragazza, tuttavia, ha spiegato che lei dà un valore a certe cose 2.E se tu mi dà il buongiorno con un nomignolo simpatico, e poi vedo, che fai la stessa cosa con tutte, quel gesto perde di valore Alberto ha provato a spiegare le motivazioni dei suoi modi di fare ma pare non sia servito a molto Amici 18, nuovo amore tra Tish e Alberto.Di domanda.Tish è andata poi a sfogarsi con Alessandro Casillo ripetendo le stesse cose senza dire il nome di Alberto Qui ci sono dei comportamenti che non mi piacciono, alcuni fanno cose che sembrano delle cose carine nei tuoi confronti, e poi scopri, che lo fanno con tutti Avete un po' tutti questa cosa.Non mi piace.Alessandro Casillo ha iniziato a ridere, e le ha risposto Ho come l'impressione che questo discorso sia per una persona in particolare.L'allusione è stata ovviamente per il tenore Alberto Tish è iniziato a ridere imbarazzata e ha chiuso l'argomento. Che cosa sta succedendo tra i due cantanti? Come mai la giovanissima Tish, appena 18 anni, è così indispettita? Come ha detto Maria De Filippi, nella scuola di Amici gli amori nascono alla velocità della luce Non resta che attendere le prossime puntate per saperne qualcosa di più